Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono Simone e siamo qui oggi finalmente ritornati su Minecraft Ita In questa nuova avventura, in questo nuovo mondo, in questa nuova strada che percorreremo insieme Ragazzi, ho cambiato il mondo di nuovo e siamo qua, siamo finiti su questa piccola, anzi piccola, una parola un po' azzardata da dire però Siamo finiti in questa magica bellissima isola, che vedendola così di primo impatto non mi sembra neanche malvagia, devo dire Comunque ragazzi, come zona mi sta piacendo, mi sta piacendo, adesso andremo a prendere le cose essenziali per costruire il primo piccone, la prima spada Per uccidere questo povero maialino, ciao maialino, ciao, ciao amico Va bene, a parte le stupidate ragazzi, prendiamo la prima legna che ci serve per uccidere il maiale e le pecore per fare le prime cose del caso E poi dopo andare a costruire il nostro impero Mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su e cerchiamo di fare qualcosa di carino Maialino mi dispiace ma ti devo dire addio, addio Addio, addio maialino, addio, non muore, ok è morto Ok prendiamo il primo cibo del caso, quello che ci capita davanti Cioba il maialino Ok, poi un'altra pecorella per prendere la lana che ci fa molto comodo Tre lane, ok siamo a posto Ok ragazzi, adesso prenderò un po' di legna per costruire i primi materiali come la spada che abbiamo già costruito, il piccone e l'accetta Poi dopo andremo a fare un bel giretto intorno Oh il deserto grandissimo Mamma mia come lo desideravo il deserto Faremo il primo giro per vedere dove costruire la prima casetta, la prima non casa E tutte le cose che ci serviranno in futuro Dunque ragazzi, ci vediamo dopo Ok ragazzi, intanto che stavo per andare in quella zona dove c'è il deserto Ho visto questa piccola caverna chiusa dal mondo e dai mostri Allora ho deciso di raccogliere tutto quello che c'era all'interno Cioè il carbone e tanta tanta pietra Tanta, 17 di pietra E questo ragazzi mi faceva veramente tanto tanto comodo Tanto, mi sono già perso perché il deserto è dall'altra parte Dunque ragazzi, stavo già sbagliando strada Tanto non so perché lagga Guardiamo i chunk Ok, 12 Non dovrebbe laggare Non si sa perché Lagga Ma va bene ragazzi Scialla Tanta sabbia Oh ragazzi, finalmente il deserto È da due mondi che sta aspettando il deserto Mai una volta l'ho visto, questo deserto di Minecraft Non l'ho mai visto ragazzi Nella scorsa stagione Stavo facendo un progetto veramente molto molto importante Ma purtroppo ho perso i dati del salvataggio per la seconda volta E niente ragazzi Ho perso Stavo facendo un bel progetto con i coloranti E mi serviva questo maledetto cactus Schifoso maledetto E adesso li ritrovo tutti qua ragazzi Tutti qua Se trovassi anche Una piramide Del deserto Inizieremo veramente Troppo con il botto Perché ragazzi Sarebbe troppo bello Incominciare così Ma non credo molto Di trovare una piramide Perché comunque ragazzi Ah no Pensavo che fosse una piramide Ma niente Sì piramide Piramide davanti a noi Piramide raga Mamma mia Inizia così Mamma mia ragazzi Primo video Con il primo botto Ragazzi Finalmente Mamma mia Dopo anni e anni Secoli Mesi Giorni Ritrovo finalmente La piramide Del deserto Ragazzi Che emozione È davvero tantissimo tempo Che non Che non Ne esploro una ragazzi Perché devo essere sincero Uh Aspettate un attimo Facciamo come I giocatori pro Di minecraft Andiamo sempre nell'altro Perché sotto ragazzi Per chi non lo sapesse Ci sono le TNT Dunque sono veramente Molto Molto Pericolose Ok ragazzi Ok guardiamo Uh Iniziamo così ragazzi Due smeraldi Per noi Tanti ossa Tante ossa Pelle Raccattiamo tutto ragazzi Perché Siamo all'inizio Dunque raccontiamo anche le ceste Ci serve tanto Tante di quella roba Ragazzi Che non potete neanche Immaginare No Non ci posso credere Raga Subito Così La mela d'oro Ma è quella potente Questa È illuminata Si illumina Secondo me si raga Mamma mia Così Così Da nulla Inaspettata Troviamo Il benedetto Deserto Ragazzi Che io sto cercando Davvero tanto Questo bioma Del deserto ragazzi Perché è da due stagioni Anzi La prima stagione Si c'era il deserto Nella seconda ragazzi Che mi serviva I cactus Per fare i coloranti Non ne ho trovata Neanche mezza Dunque ragazzi Per me Babba mia Tanta tanta Di quella roba Che Guardate ragazzi Nel primo episodio Abbiamo tutta questa roba Incredibile Due libri Con ripristino Che serve Veramente tantissimo Saccheggio 2 TNT Vabbè le ceste La mela di nocce Forse Non lo so Scrivetevi sotto nei commenti C'è la mela di nocce Abbiamo ragazzi Trovato tanta tanta roba Per essere il primo episodio E sono veramente Molto molto contento Perché significa ragazzi Che incomincieremo Alla grande Questa nuova serie Ok ragazzi Siamo arrivati In un buon punto Del gioco Come primo episodio Naturalmente Nel prossimo episodio Andremo avanti Nell'esplorazione Della mappa Adesso cerchiamo Di sopravvivere E poi ragazzi Ci salutiamo qui Perché secondo me Abbiamo già fatto Tanta di quella roba Ragazzi Che abbiamo trovato Il primo La prima piramide Nel deserto Abbiamo fatto Le prime cose Che adesso Che le farò con calma Con Con la pietra Perché sono cose Essenziali Per andare avanti Con il gioco Naturalmente ragazzi Adesso Mettiamo Carne al fuoco Così ce la mangiamo Tutta anche cruda Chi se ne frega Ragazzi Perché Ci è andata Veramente di lusso Questo episodio E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Adesso cercherò Di fare qualcosa Di bello Nel prossimo episodio Scrivetemi sotto Nei commenti Cosa volete vedere Nel secondo episodio Di Minecraftita Sul mio canale E niente ragazzi Come primo episodio È stato veramente bello Abbiamo trovato La piramide del deserto Mi raccomando Un bel pollicione su Un bel commento Iscrivetevi al canale Per non perdere altri video Di Minecraftita E non solo E niente ragazzi Un bel pollicione su E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao